Al via da lunedì 9 marzo la rubrica medica targata Italia 2 TV dal titolo Mio Dottore, uno spazio di informazione medica che vuole creare interazione tra i medici specialisti protagonisti della nuova rubrica medica e di nostri telespettatori. La rubrica Mio Dottore andrà in onda dopo i tg della sera della nostra emittente quotidianamente. I telespettatori potranno inviare richieste di maggiori approfondimenti su una determinata tematica medica all'indirizzo mail dedicato per ogni specialista, che sarà trasmesso sovraimpressione durante la trasmissione e che sarà reperibile anche sul sito di Italia 2 TV www.italia2tv.it. I medici specialistici che operano nelle strutture ospedaliere del territorio e di tutta Italia risponderanno poi privatamente. La prima puntata vedrà protagonista il professore Antonio Federico, professore Merito di Neurologia all'Università di Siena. Interverranno poi, nelle prossime puntate di Mio Dottore, anche la dottoressa Loredana Pagano, specialista in endocrinologia e malattie del metabolismo, il dottore Riccardo Marmo, specialista e dirigente medico dell'Unità Operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'Ospedale Luigi Curto di Polla, il dottore Antonio Babbino, specialista in oculistica, ed il dottore Raffaele Roturno, specialista in cardiologia e direttore dell'Unità Operativa Complessa ed il servizio di cardiologia degli ospedali di Eboli, Battipaglia e Roccadaspide.